eccoci qua ciao a tutti chi li amo allora ragazzi buona festa del grazie e dateci sotto con le quaglie oggi è il giorno del ringraziamento oggi è l'ultimo giovedì di novembre quindi dateci dentro con le quaglie e non spendete troppo col black friday domani e buonasera a tutti un saluto dal paese dei tirchi e buona festa del grazie eh che festa del grazie sarebbe senza quaglie ok ragazzi buonasera buonasera ormai sto streamando tutti i giorni che succede? sto recuperando un po' di arretrati sto recuperando un po' di arretrati allora è la festa del giorno prima del venerdì nero vediamo io non ho mai capito il ringraziamento non è tipo l'ultimo giovedì di novembre domani è il black friday è festa commerciale nel senso che tutto è scontato lo sapete 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 benissimo cosa una cosa che potete fare entro domani è comprare corsi su scontati su edex il corso di blockchain che forse farò anch'io entro domani arriveranno le informazioni e bla 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 ok ragazzi grazie Jackie Chan per le donazioni comunque di cosa parliamo stasera? stasera riprendo con un'altra delle rubriche che a me ti dicono tanto che è la learning in public e è una versione un po' un po' particolare della learning in public è una versione in cui in realtà non facciamo come le altre volte del tipo leggo un articolo due o mezzo o un terzo e prendo note stiamo tutto il tempo su un solo articolo ma 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 ho troppi tab aperti ne ho presi un sotto insieme li ho messi in un unico contenitore quindi un 50% dei tab aperti sul mio chrome sui vari chrome perché io ho sia account google come Giorgio che account google come Mr. Rip in realtà facciamo se ricordiamo ricordiamo a tutti quanti che se volete se avete delle domande che riguardano il tema di oggi quindi sul learning sul personal knowledge management sulla scelta di input sul conosci questo canale conosci questa cosa oppure sentito parlare di quest'altro fatele pure qui al Dori e vi risponderò con calma dopo e interagiamo ovviamente anche con con la chat in real time sconti di poltrone sofà è vero e ci sono sicuramente alla Migros sconti sul salmone come sempre e non ci saranno mai sconti sulle chips di patate quelle di formaggio che le sto tracciando da 8 anni non sono mai una volta in sconto mannaggia la miseria dicevo dicevo qual è il ruolo degli episodi di learning nella mia presenza online adesso mi sto ogni volta che faccio un qualcosa online un contenuto voglio inquadrarlo in una visione sto scrivendo la visione bottom up sto scrivendo che ci faccio io online dal basso dal basso cioè cioè mi dico a che serve perché sto facendo questa cosa oggi perché per me learning è uno degli aspetti fondamentali del pacchetto di valori che voglio portare che vanno dalla che diciamo puntano alla self-actualization al vivere una vita facendo ciò che ciò che uno vuole e per arrivare lì secondo me per viversela anche a pieno avere curiosità essere un avido consumatore brutta parola di risorse intellettuali è una delle gioie più grandi che c'è quindi io a me piace tantissimo leggere articoli interessanti vedere video interessanti su youtube e non lo so è una roba troppo bella e come side effect ci aiuta anche nella costruzione della propria persona del proprio pensiero critico un ingresso nel mondo del lavoro e una costruzione della propria carriera che aiutano ovviamente a raggiungere quell'indipendenza che ci serve per poi vivere una vita appieno quindi in realtà il ruolo del learning è duplice se ben strutturato come career development e anche soltanto lasciando correre la curiosità è un ottimo modo per a mio avviso per spendere il proprio tempo per triggerare pezzi di creatività che poi ci fanno fare cose no benissimo benissimo vi rispondo un po' di vi rispondo un po' vediamo un po' live sgrollo non ce vedo sgrollo 96 io vorrei fare una critica costruttiva a google 2022 ancora non hanno organizzato la barra dei preferiti per chi come me ne ha 2000 beh però io ne ho circa 5000 ma ce li ho organizzati in folder io ho la barra dei preferiti con anche che ne so cartella roba da vedere con sottocartelle 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 è un problema avere migliaia di preferiti ma ti capisco allora BKBS Kenzo si campa anche senza sapere cos'è un logaritmo senza saper suonare uno strumento musicale senza conoscere il nome del vento che ti soffia in faccia o del fiore che regale a qualcuno ma di sicuro ci si perde qualcosa bella bella è tua eh no Borges non rompete il cazzo allora perfetto cominciamo a condividere condividiamo tac tac questo documentino qui in realtà cercherò di compilarlo a mano a mano che che vediamo che vediamo argomenti bene questo è la è la è il la browser window con i tab da da andare a a chiudere a chiuderne il più possibile ma non c'è neanche un tab no ma c'è un tab group che adesso espandiamo boh ecco questa è la situazione quanti sono se faccio tipo salva tutti command shift d c'è un modo per c'era una volta statistiche per nerd c'era una volta per contare quanti sono task manager no 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 non qui dentro sì il link a questo vedo che c'è arrivato ma c'è ancora poco di interessante reddareinprogress.com slash tmts che è too many tab syndrome che è appunto dove iniziamo oggi no ok too many tab syndrome non ricordo chi me l'ha linkato questo articolo e via prima di dargli una lettura farò così ho un po' troppi tab punto a chiuderne almeno una metà chiuderli in maniera light quindi passarci dargli un'occhiata eventualmente estrarre qualcosa o anche già pronto sotto il room research vediamo cosa esce fuori è una roba che devo 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 fare too many tab syndrome ovviamente l'elenco delle cose che facciamo lo metto in questo documento per chi vuole seguire questo rabbit hole too many tab syndrome ok today I'm going to talk about a big issue I have and you probably do as well while they start on the internet I end up opening way too many tabs eh di che abito too many tabs non sei nessuno cos'è questo tablerone è ancora un tablerone ridicolo il vero tablerone tablerone è quando una volta quando chrome aveva i tab a punta così questo lo chiamavamo il tablerone in google here's how it goes you search for something on google you find one or more interesting about it you start reading and sometimes along the line the other links to other posts and you're tempted to open those links in the tab meanwhile you have an email open facebook blah 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 you go on like you end up with 30 tabs or more and if you're like me you sometimes look so good and randomly start switching from one tab to the other and actually closing some as if trying to free yourself from this situation you got yourself into eh sì quando chiudi un tab ti sa come di aver tolto una checkbox ok questo l'ho fatto mi aggiungo altri 10 to do che non avevo bisogno e ne faccio 5 e mi sembra di aver fatto progressi quanto mi farebbe piacere sapere da voi mi farebbe piacere sapere da voi come come è il vostro rapporto con i browser qual è il vostro rapporto oh grazie bandaz grazie qual è il vostro rapporto con i tab del vostro browser io ad esempio li uso spesso come talvolta come task come cose che devo fare quindi se devo fare qualcosa di importante e o mando mail a me stesso però qui entriamo troppo in dettagli di productivity però spesso i tab rimangono aperti come cose che devo fare o risorse che devo ancora leggere era mia usanza non qui sul non qui sul browser non qui sul chrome da mr rip ma in quello personale avere delle cartelle con molti più molti più tab ad esempio quando il bookmark passava un mese e questo articolo non lo leggevo che ne so questo articolo bellissimo non lo leggevo dico ok lo salvo me lo levo da qui lo salvo in un bookmark come learn dopo è nato un altro bookmark tipo latest poi è nato un'altra cartella di bookmark latest test diciamo che ho un po' di problemi ho troppi arretrati dovevo dichiarare banca rotta una persona sana direbbe ok non rileggerò mai queste cose qua bankruptcy via tutto pazienza mi sono perso qualcosa fear of missing out non ne soffro quindi lascio andare quei bellissimi articoli che mi sono perso e via riparto da una da uno stato pulito io non faccio così io c'è una cosa la voglio leggere so che non avrò mai tempo me la salvo un domani forse ce l'avrò la mia unica speranza è che poi il sito va giù e quindi cancello cancello dei bookmark perché puntano su foro for pages e quindi questa è la mia soluzione c'è chi mi ha chiesto qual è il browser migliore chi è Chrome resta il miglior browser al momento non lo so non lo so solo che il costo dello switch è molto molto alto il costo di switchare tab è molto molto alto di switchare browser io sono totalmente dentro il mondo google one tab come se non è la prima volta che la sento one tab extension poi gli diamo un'occhiata me lo metto nelle cose da leggere adesso mi creo un tab group un tab group che lo chiamiamo after rip leap vediamo se questo con cose da fare dovute a suggerimenti cose che ho visto perché adesso analizzando i tab si apriranno nuovi tab quindi vediamo vediamo quanti ne chiudo e vediamo quanti nuovi ne sponano ok allora poi gli darò un'occhiata che vantaggi cosa è che fa questo tab save up save up 95% and reduce tab clutter whenever you find yourself into many tabs click on what tab icon to convert all of your tabs into a list when you need to access tabs tab again you can either restore them vabbè è una lista di bookmark grazie Dejan è una lista di bookmark non mi sembra che sia diverso da salvarli nei bookmark buon gli darò un occhio più approfondito quindi qual è il browser migliore non lo so sono ormai fuori dal metodo dei browser io la mia storia è stata Netscape Navigator un po' di Internet Explorer era l'inizio quando nasceva poi sono passato molto rapidamente a Opera Opera l'ho ottenuto per diversi anni Opera per me era un capolavoro però di Internet vecchio quando non c'era quando Internet non era cloud quando Internet non era voglio avere le cose sincronizzate tra vari device quindi Opera per me è stato un capolavoro poi ho fatto per tantissimo tempo Firefox fino a quando è uscito Chrome e da lì sono su Chrome e sono su Chrome anche perché sono loggato ho tutti i servizi connessi alla mail non c'è speranza che io non mi vedo uscire da qui ho tutto sincronizzato con il device Android non vedo che io esco da Chrome a meno che non diventa veramente il male e già e già siamo sulla buona strada Safari anche su Mac Chrome migliore di Safari non lo so non ho mai provato Safari però non l'ho mai manco voluto ne provare io il Mac ce l'ho da un anno e anche in Google avevo un Mac ma usavo soltanto Chrome quindi Safari l'ho usato due volte per dirgli di non essere settato come browser di default quindi non so boh non lo so Chrome per forza di cose perché sono nel mondo Google è molto più fast di un semplice bookmark OneTab gli darò un'occhiata gli darò un'occhiata non è più semplice salvarsi gli articoli sul tuo PKM e aprirli volta per volta no 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 salvarli sul PKM che intendi proprio prendere l'articolo copia e incolla dentro un file markdown oppure il se prendete il link non lo so non lo so però ammetto che il visual spam è tantissimo cioè quando io devo fare qualcosa dico cazzo devo ancora leggere questo farlo leggere quest'altro quest'altro no questo è troppo interessante e mi 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 dà fastidio vorrei un modo per salvare tab groups somewhere e poi ricaricare il tab group quindi questo a me servirebbe un modo per prendere un tab group salvarlo c'è un modo move group into new wins no però salvarlo da qualche parte e poterlo poi ricaricare tutto assieme grazie New Racer Stars non ce l'ho al momento questo modo e quindi va bene così questi frontend dev devono capire che non possono riempire i libri di a casa un sito non ne so non ne so niente a fine rapporto lavorativo ti rimane il Mac? boh non lo so magari non credo non lo so può darsi che me lo lasciano vediamo vediamo non è irrilevante anche se è un discreto Mac da 4k l'ho pagato per cui boh mi si chiede se uso la reading list nativa di Chrome mmm mmm non so cosa sia reading list reading list Chrome cos'è? ah Google Chrome reading list will find help you what? ok abbiamo fatto fine me lo metto come tab di cose da leggere dopo sembra interessante giugno 24 2021 quindi neanche è nuovissima sta roba allora lo rispondo a prima un'altra cosa Rippa hai visto il video di Wesa l'ansia del recupero? forse forse non ricordo vediamo un po' se gli ho dato il like vediamo un po' se l'ho già visto mmm del 2020 probabilmente a suo tempo si probabilmente si ma non me lo ricordo quindi sai che faccio? me lo salvo per vederlo dopo per recuperarlo dopo mortacci vostra io volevo chiuderli tab non aprirne di più rip conosci Joe no non lo voglio non lo voglio conoscere mandalo a un casellante di tua fiducia leggiamo un po' grazie Joe io esatto non ho aperta neanche neanche una non ho chiuso neanche non ho chiuso neanche un tab fino adesso allora fidati guarda Joe Pop eeeh vabbè vabbè Geo Pop che roba eh Geo Pop scienza della terra vita di tutti i giorni cos'è sta mer che cosa eh sono di che parla? scienza scienza è un canale youtube anche al momento non mi sembra non mi sembra interessare così al volo e per forza di cose chiudere è un canale youtube è un canale youtube brave no 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 rip rip se ho visto la serie 0 calcare si l'ho vista l'ho già detto l'ho già detto non faremo non faremo niente come al solito mannaggia la miseria la serie 0 l'ho vista mi è piaciuta mi è piaciuta moltino non moltissimo moltino mi è piaciuta moltino molto moltino moltino plus moltino plus allora vediamo un po' quindi quando arrivi a 30 tab eh stai messo nella merda e capire i 30 tab c'è la colazione and if you're like me you sometimes lose focus and randomly start switching from one tab to another eventually closing some as if trying to free yourself bla 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 am I the only one apparently not Ashley writes in her blog post to my tabs let overcome overwhelm apriamolo ovviamente questo qua questo ce lo vediamo per dopo vediamo cosa dice Ashley notare che è già spawnato un altro tab I am over chi è questa qua tra l'altro hey I'm Ashley and this is my blog figo ti pare che non me lo leggo tutto adesso sto blog I blog about these things goal setting imperfect mo wife to an academic wannabe minimalist ok sono sovra sono arrivato alla frutta è frenetica con cose che voglio imparare con cose che voglio fare lanciare ed essere in ogni momento ho un miliardone di tab aperti nonostante despite having a full dog of things I want to read in my one tab nonostante ho da un'altra parte in one tab in one tab attenzione vedi vediamo che lo usa come si chiama l'estensione permette di sottolineare le cose e inserire le cose sottolinei non ce l'ho quale estensione non ce l'ho non c'è mai momento di calma nel mio cervello ascolto i business podcast o video mentre lavoro sui miei siti ascolto podcast di design mentre cammino bla 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 ok it's no wonder really they took me a whopping two hour to fall asleep last night il mio cervello stava impazzendo perché in maniera così ossessiva perché voglio consumare tutta la conoscenza nel mondo e diventare super successful in my business e anche sti cazzi ok la prima parte è impossibile no la seconda è impossibile è un bel problema ma un problema di autosabotaggio allora here are four ways I'm dealing with the too many tab syndrome ah è proprio una roba famosa sta too many tab syndrome get real and just work the idea that suddenly I reach a saturation point and just be able to it all perfectly it's just a falla si allora ragazzi questo è vero è vero è vero è vero se uno o una passa troppo tempo soltanto consumando informazioni e non producendo niente quello è una costruzione di conoscenza un po' fine a se stessa che non voglio dire inutile c'è di peggio ma se non produce nulla e la produzione significa significa anche semplicemente produrre dei pensieri dei pensieri interessanti e documentarli allora non si può più far niente con te in giro ormai ci ho pensato ma non lo dico release radio di more to death dico la produzione il consumo di risorse fine a se stesso si ci arricchisce però se non connettiamo i pensieri se non facciamo journaling di quello che abbiamo imparato se non schiamo i nostri pensieri che può essere un output anche per nessuno solo per noi stessi ma se se non usiamo la conoscenza che stiamo acquisendo potrebbe essere un po' potrebbe essere un po' non dico tempo sprecato ma ma non c'è bilanciamento se consumiamo 10 ore al giorno di contenuti e vogliamo leggere tutto illegibile senza produrre un'auto senza che questo si migliori nella nostra mission non è molto utile le versioni più di successo in realtà hanno molto più output che input per cui get real and just work è una semplificazione ma bla 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 non puoi mai plus in some ways a questo qui lo che sta dicendo se stai soltanto imparando cose per per perfezionismo in quello che stai facendo come può essere un esame oppure il tuo business non puoi mai arrivare al 100% quindi a un certo punto devi andare questo è ovvio ma non so quanti lasciano spaziare la curiosità al solo fine di al solo fine per il proprio business o per passare un esame qui parliamo di gente che ha tendenza seriale all'imparare cose anche che non c'entrano un cavolo con l'altro bla 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 è nulla cerca la pace è così questa vabbè sì sì se vuoi guarire dalla non dalla too many tab syndrome ma dalla addiction con il learning cerca la pace nel senso che vai a fare una passeggiata nel bosco oppure staccati da internet e leggiti un libro che è sempre più difficile non tanto non tanto perché è un formato lineare ma perché non abbiamo il continuo ci forza a tenere l'attenzione concentrata su un singolo su un singolo argomento che è una cosa difficilissima in questo periodo ma molto valuable quindi find quiet sono d'accordo se hai tre figli stop on buy ok via beh a questo punto però documentiamo 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 questo rabbit hole documentiamo yep no ehi non è questo questo ok documentiamo ok ok chiuso torniamo al nostro il nostro domain tab syndrome ok come dice Ashley nel suo blog bla 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 l'abbiamo già visto in questo post su agar news sono tentato che faccio vediamo un po' cosa riassume qui il nostro autore need to store all data locally for privacy reasons and have a way to logical group urls by content and bring them back to the front so they don't disappear interessante in un altro blog post Cristina scrive I imagine that I will make my way through my tabs completing task after task and closing tabs one by one but that never happens instead I read one thing and end up opening another tab before I finished reading the first article agree agree se ho dieci tab parto dal primo il primo ne spune altri dieci non se ne esce minimizzare i tab e non toccarli some tool vediamo un po' interessante tab snooze let you snooze tabs for later today this evening che vuol dire che ci fai clicco clicco che vuol dire snoozeare un tab dove se ne va se ne va via dal browser se io se io addormento un tab ah gli dici quando tornare ah però e però e cosa succede se ne va via e poi riciccia dopo questo potrebbe essere interessante come dirgli torna fra un mese torna però che fa vuol dire si riapre tab limiter let you the amount of maximum tab open at a time and any new tab exceeding that limit would be automatically added to a queue once you close one tab oh madonna che figata bello tab limiter riciccia quando l'articolo è più attuale wow allora esistono soluzioni a questo problema meno male che torniamoci l'ho aperto per dopo gli do un'occhiata dopo cos'è 404 ehi non esiste più questo tab tab limiter non esiste più e peccato tab limiter extension tab limiter ok interessante vai in questo tab group poveramente misurerò quanti cavoli tab ho aperto ancora non ho neanche chiuso un tab the grid suspender qualcuno ha scritto che lo usa ed è molto contento il sospender lo uso è fantastico non ti ammazza la ram cosa vuol dire sospendere un tab a parte quanta ram sto consumando dai vediamo un po' task manager qui quanta ram dai è tranquilla memory footprint browser 700 500 una passeggia mamma mia ok ok no non mi interessa one tab one tab abbiamo messo già in là bookmarks manager non è una soluzione ma è ok utopia bla 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 ok interessante mi è piaciuto questo qui chiudiamo un tab dai dai chiudiamo un tab ok e apri una tab ma queste qui sono pure poche perché in realtà ho altre due finestre di browser si bisogna stare attento attenti a usare estensioni poco al feedab si si sicuramente allora vediamo un po' questo link saltiamo di palo in frate quello che oggi capita ragazzi è roba vecchia per cui lo faccio più per me che per voi chi vuole seguirmi vede più o meno quello su cui quello su cui devo recuperare e e e quindi potrebbero non interessarvi tutti gli argomenti questo qua io avevo in nella live sul metaverso avevo avevo fantasticato chissà se esiste un etf che traccia prodotti metaverso ovviamente roundhill investments ha lanciato che non so chi sia ha lanciato un etf che si chiama ticker meta genio genio vediamo un po' le caratteristiche ovviamente a me non piace in genere investire su etf tematici ok vedo che qui la chat è ancora immersa immersa in discussioni in meta discussioni me meta io sto io sono già andò davanti e sto parlando di meta voi siete ancora nel meta discussioni ok vedo che siamo chi ha qualcosa di super interessante da dire sull'argomento too many tab syndrome o come risolvere il problema oppure ehi rip guarda questo tool qua mettetelo nel dory nel dory che sta qui vedete mettetelo qua dentro io darò un'occhiata ciao georgio queste qui le domande le vedrò tutte quante non forse non stasera ma le vedrò quindi chi ha cose importanti le metta nel dory che sta il link sta laggiù insomma là vediamo un po' questo etf al volo sicuramente è una roba una trashata però visto che qualcuno me l'aveva segnalato volevo dargli un'occhiata e vedere dare un piccolo parere in genere ripeto non mi piacciono i etf tematici perché sono essenzialmente poca diversificazione hanno poche stocks e tutte quante concentrate su un tema quindi molto correlate e quindi è uno step leggermente superiore a comprare una singola azienda ti compri tutto quanto un piccolo tema tema non è settore cioè il mercato più ampio su divisioni eventualmente geografiche su divisioni settoriali quindi IT consumer goods i settori sono quelli sono una quindicina i settori una dozzina energy sono una dozzina di settori ufficiali financing classificati anche dalla standard e poi esistono i temi che sono lì sottosettori sono dei settori più piccoli quindi c'è il tema clean energy c'è il tema biotech c'è il tema non lo so electric vehicles o non so il tema marijuana o il tema tematici settori tematici e ora giustamente nasce anche l'etf tematico per aziende che hanno a che fare col metaverso ok diamo un'occhiata al volo per fare una piccola analisi ticker meta costo getter dato sul nise eh ma se cerco nise meta su google find ok randil ball metaverse etf stock vediamo un po' da quanto tempo esiste tra l'altro max esiste dal 30 giugno tra l'altro vabbè non mi sembra che abbia performato sto gran che dalla nascita dall'inception ha preso da 15 a 16 ha preso il 6% tutto tra l'altro preso nell'ultimo dall'annuncio di zuckerberg ok caratteristiche expense ratio piuttosto altina 0,75% asset under management non pochi decisamente non pochi mi aspettavo di meno quasi un billion non è poco è un etf abbastanza è un etf tra l'altro è un etf ok share lancio il 30 giugno 40 solo 40 stocks dentro vediamo se c'è l'indice ball metaverse index non so neanche chi è che chi è che lo emette ball non è neanche un indice ball metaverse index schifo cos'è mamma mia ok l'indice di riferimento non lo so sono abituato a MSCI e sono abituato a Standard & Poor o a Fuzzi non a questo ball metaverse vabbè chi se ne frega che c'è dentro la ciccia a parte di fanno c'è anche c'è anche security lending quindi vuol dire che prestano le tue share in questo particolare etf non è parte dell'indice vediamo un po' the ball metaverse index is the first index globally designed to track the performances of the metaverse l'indice consiste in una tired weight portfolio cosa vuol dire? questo qui non è non penso che sia che sia market cap weighted tired ok ok tired weighted weight vediamo un po' tired weight non trovo una definizione standard sembra non essere un market cap weighted quindi non è del tipo se c'è dentro facebook occupa il 90% sicuramente è un etf che non va market cap weighted perché sono molte aziende piccole e c'è la facebook dentro per cui se fosse un etf che tracciasse in base al market cap sarebbe 95% facebook e poi tutte piccole small cap quindi sarà eventualmente una un bilanciamento boh non ciò voglio andare troppo dentro però è da notare che la strategia non è market cap weighted ok of globally listed companies che sono involved in metaverse quindi vediamo un po' quali sono gli argomenti compute companies enabling and supply computing power networking quindi connection and bandwidth virtual platform companies che sviluppano immersive digital e three dimensional city simulations interchange standards company che fanno dei tool protocolli formati servizi pagamenti non so perché stanno in metaverso content assets and identity services ok e hardware vediamo un po' c'è un elenco di di top market large cap ah tutte large cap sono avrei detto di no chi ci sta dentro dai dici dici ah eccole qua eccole qua Nvidia ok Nvidia non c'è facebook ah c'è facebook però facebook in teoria ha meno rappresentanza di Nvidia di Roblox Microsoft Unity Amazon non lo so non mi sembra Tencent Qualcomm Apple mi aspettavo più cose più più divertenti con più aziende a cavolo quindi diciamo così etf metaverso ripple boccia ripple turbo boccia via bene bene abbiamo chiuso un altro tab andiamo su un altro tab scontatisti tutti uguali gli etf di metaverso tutti uguali perché ci sono altri etf di metaverso Giuseppe Savoia hai visto il nuovo libro di Tiago Forte lo voglio lo voglio assolutamente dovrebbe essere quello su building a second brain Tiago Forte book building a second brain se non sbaglio lo voglio forse ce l'ho già in qualche ce l'ho dove sta ways of knowing bla 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 sembra vecchio qua non è ways of knowing no questo qui era di qualche tempo fa e anche questo qui non mi dispiacerebbe lo vorrei lo vorrei ma se non sbaglio Tiago Forte Tiago Forte building a second brain questo lo voglio lo voglio chiunque voglia farmi un regalo per Natale devo farla questa cosa qui tipo la wishlist pubblica perché qualcuno mi ha regalato e mi regalerà libri e sarebbe un bel regalo per cui non voglio versione kindle versione hardcover però building a second brain ci sta ci sta ci sta lo voglio lo voglio tutti i costi meta 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 è un tech etf però però in realtà è pure mezzo sminchio cioè non ha neanche tutte ste aziende etf tech così in realtà si potrebbe fare penso che si possa fare una wishlist o tipo una lista di nozze come si chiama quella in cui se uno vuole farmi un regalo sceglie una roba nella mia wishlist e poi dopo questa scompare dalla wishlist esisterà modo di fare tipo liste nozze potrebbe essere una cosa carina perché molti mi chiedono e poi così non devo dar via l'indirizzo mio personale ma posso dire la wishlist Amazon è il mio indirizzo e così via cos'è sta roba cos'è sta roba ieri ho semi annunciato che sto per sporcarmi le mani col mondo sto sporcando mi le mani col mondo cripto col mondo blockchain e col mondo NFT allora volevo come challenge dico sento che molti youtuber hanno la wishlist interessante ci penserò devo solo trovare tempo per fare anche quella roba lì poi che barbore poi vediamo siccome mi sto per sporcare le mani molto col mondo cripto ho detto vediamo come funziona creare un NFT immagino che sia una cosa complicata difficile ho fatto un po' di ricerche ho scoperto che su OpenSea lo crea in 3 secondi allora cosa ho fatto cosa ho fatto ho creato un NFT ho messo una foto di rip at work e è in vendita a pigrego ethereum quindi chi vuole sborsare 13.000 dollari c'è il rip NFT il mio primo NFT ragazzi guarda che mica mica te lo regalano no mi raccomando è un esperimento finisco in carci qualcuno si indebita per sta roba qui dove sta rip NFT sono punti 3 secondi proprio ragazzi quindi creare un NFT è una passeggiata su OpenSea certo i metadati non ne hai tanti così via la price history non c'è non ci sono molte offerte mannaggia mannaggia allora oh mia dolla e ten che hanno venduto due NFT no tra l'altro gas fee neanche Philip no io pensavo dico adesso pago in 0 0 0 0 anzi ne facciamo un altro al volo ne facciamo un altro al volo guarda create gratis gratisissimo attenzione metamask connesso all'account di metamask sign ok e creo vediamo di pigliare un'immagine adesso escono cose not safe for work che non si sa mai qui si eccolo qua dai vediamo questo qui sono io che mi bullo con la faccia di con con la faccia la stannis la rochelle del fatto che ho la signature su un polpo alla gola di zero calcare certificato di originalità è questo qua questo è più o meno quindi mi bullo mi bullo e quindi diamo un po' item name seppia rip external link che non posso anche non metterlo ma in realtà io metterei un Rickroll tanto tanto è solo una 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 prova external link description roma nord est rules collection al momento untitled collection bla 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 supply ne mettiamo solo uno blockchain ethereum ok vai no blockchain mi sembra che avevo messo polygon fast gas fee bla 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 create eccole qua ne ho fatto un altro you create seppia rip ale owned by you mettiamolo in vendita subito listing lo vendo questo questo ragazzi questo lo regalo questo lo regalo a 1,1111 ethereum questo proprio vai tranquillo 2,5% ecco se qualcuno me lo compra a 5.000 dollari è un casino firmiamo questo messaggio con metamask via sign ok fatto l'ho listato se uno lo compra ho i soldi su metamask fatto pagato zero è è è figa cioè è figa questa è una merda non è l'utilizzo non è l'utilizzo che io sogno un futuro per gli nft questa è merda ragazzi anche se questo è un bel nft eh ragazzi possedere questa roba qui c'è rip e zero calcare solo il primo la fine no in realtà come vedete via ah ecco stones giusto quindi tutto qua no no facciamo così dai cancelliamo il listing cancella per memata sign lo metto in vendita non so se se è figa la transazione lo metto in vendita 0.0 ah deve essere 2 dollari vabbè con calma quanto 2 no 0.001 quanto 0.005 44 45 ecco prices below collection floor price ah ma no ma che volga ma chi se ne frega non pe coglioni ok è in vendita sign ok questo qui adesso questo è un affare ragazzi 2 dollari eccolo qua 0.0004 è è un po' in sconto è black friday è black friday vabbè cazzate a parte oggi dovremmo imparare qualcosa il seppia rip è in vendita ah adesso non voglio venderlo a 2 dollari no non ci sto via fuori cancel non è in vendita non ha prezzo il seppia rip via ok avete perso quella piccola finestra in questo in vendita a 2 dollari un 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 il mio nft non è in vendita non è in vendita andiamo avanti andiamo avanti eeeh vedi adesso ti metterò in vendita a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 per cui hai perso l'occasione o c'è quell'altro che sta a 3 e 3 e 15 magari quello fa mille per non si sa mai non si sa mai